Musica Riciclaggio, la centrale tra porti cedercolano scoperto dalla finanza un giro d'affari internazionale per 2 miliardi e 600 mila euro con oltre 6 mila clienti in tutta Europa. 8 le persone arrestate, il procuratore Gratteri, l'organizzazione utilizzava tecnologia da servizi segreti. Napoli, delitto degli chalet, chiediamo giustizia. È l'appello di Antonio Maimone, padre di Francesco Pio, il 18enne assassinato senza motivo, un anno fa sul lungomare. Stamane, prima udienza del processo contro Francesco Pio Valda, il 20enne accusato dell'omicidio. Case occupate dal clan, scatta il blitz a Napoli, 17 sequestri, 16 gli indagati per l'invasione dei terreni ed edifici. 30 giorni per lasciare gli appartamenti, poi lo sgombero coatto delle case popolari dell'Acer nel rione amicizia occupate da famiglie del clan Contini Bosti. Tragedia alla Stellantis, controlli sui subappalti, entra nel vivo l'inchiesta della procura di Avellino sull'infortunio mortale nello stabilimento di Prato la Serra. Convocati i responsabili della fabbrica, i colleghi della vittima, documento del sindacato, più verifiche sugli appalti. Morto dopo due ricoveri, si cerca la verità. Sarà l'autopsia a chiarire le cause della morte del 14enne di Sarno deceduto all'Umberto I. La famiglia sporto denuncia e chiede di vederci chiaro il monito dei sindacati e riorganizzare con urgenza la sanità. Autonomia, benevento e scontro tra PD e Lega. Si accende il dibattito sulla riforma a Calderoli, un grave rischio per le aree interne, secondo l'esponente PD Vito Fusco. Ma dalla Lega Mignone parla di caos mediatico. Ne ha paura, chissà, di non poter raggiungere gli obiettivi. Buongiorno e ben ritrovati con la nostra informazione in apertura alla cronaca. Portici e Dercolano, la centrale di una colossale centrale di riciclaggio tra Italia, Lettonia e Lituania. Un giro d'affari da 2 milioni e 600 mila euro e 6 mila clienti in tutta Europa. Vediamo servizio. Utilizzavano sistemi high-tech per trasferire ingenti somme di denaro, riciclando una fortuna nell'acquisto di auto, beni di lusso e bille da sogno. Procura e guardia di finanza di Napoli hanno sgominato un'associazione criminale tra Italia ed Est Europa, con sede operativa a Portici e Dercolano e ramificazioni in Lettonia e Lituania. Un'attività bancaria occulta, come sottolineato dal procuratore Gratteri, per un giro d'affari legale stimato in 2,6 miliardi di euro, grazie a tecnologie sofisticatissime. È una tecnologia che solo alcuni servizi segreti hanno. Questa organizzazione era molto avanti. Ha utilizzato tecnologia israeliana, tra la migliore che c'è sul mercato mondiale. Una vera e propria centrale di riciclaggio internazionale, utilizzata da una platea rilevantissima ai soggetti. Ne sono stati individuati oltre i 6 mila che si rivolgevano a questa struttura, sostanzialmente per trasferire capitali e schermarli, quindi occultarne la titolarità. Tra i clienti c'erano numerosi pseudoprofessionisti, chiamiamoli così, ma anche numerose imprese, attive prevalentemente in Campania, in Lombardia e in Lazio. Gratteri ha poi lanciato un avvertimento sulla riforma della giustizia di cui si sta parlando in questi mesi. Se fosse entrato, e questo mi va di sottolineare, in vigore, la legge della quale si sta discutendo oggi, cioè quello di consentire il sequestro del telefonino o del computer tra persone, tra indagati, tra imputati, noi oggi questo lavoro, il lavoro di questa notte non l'avremmo potuto fare. Sui fondi FSC il governo sta tentando di ricattarci, ma noi non piegheremo la testa, così il presidente De Luca questa mattina è tornato sullo scontro con la premier Meloni. Sentiamo. La battaglia della Campania continua, nessuno può ricattarci. Parole forti quelle pronunciate dal governatore De Luca stamane nel corso del suo intervento al convegno dal titolo Istruzione Tecnologica Superiore per l'Industria 4.0. I toni nello scontro con il governo Meloni si fanno ogni giorno più aspri. Per un motivo di identità e di dignità, per dimostrare a chi vive a Roma di una vita parassitaria e di politica politicante, che Napoli non si vende, la Campania non si vende e De Luca non si vende. Vabbè, chi pensa di ricattare Napoli la Campania bloccando i flussi finanziari ha sbagliato indirizzo. Noi combatteremo in maniera dura fino alla fine. Intanto continuano le polemiche legate ai manifesti contro il governo commissionate dalla regione Campania e pagate con i fondi destinati alla comunicazione, affissi in tutte le città della regione. Il centrodestra ha annunciato anche un ricorso alla Corte dei Conti per valutare un possibile danno erariale. Uno, questo non è possibile farlo, per due motivi. Uno, perché sono soldi pubblici, sono soldi di tutti i cittadini, non sono i soldi personali del Presidente della regione. Quindi non possono essere spese per queste finalità. In più, bugie e falsità, cioè si trasferisce un messaggio che è anche falso. Chiediamo giustizia per nostro figlio non vendetta, lo ha detto Antonio Maimone, padre di Francesco Pio, l'aspirante pizzaiolo diciottenne, assassinato senza motivo la notte tra il 19 e il 20 marzo scorsi sul lungomare di Napoli, mentre era con gli amici. Il padre di Francesco ha preso parte stamane insieme con il suo avvocato Sergio Pisani alla prima udienza del processo davanti alla Corte d'Assise Partenopea, che vede imputati Francesco Piovalda, il ventenne ritenuto legato ad ambienti camorristici, accusato dell'omicidio e un gruppo di parenti e di amici che lo avrebbero aiutato a sottrarsi alle sue responsabilità. Per noi questo giorno di grande dolore, dice ancora Antonio Maimone, dal giorno della tragedia per noi non c'è pace. Siamo distrutti e addolorati, ma ci affidiamo alla giustizia. Le case popolari dell'Acer a Rione Amicizia a Napoli occupate dalle famiglie del clan Contini Bosti scatta il blitz delle forze dell'ordine, 17 i sequestri, 16 gli indagati. Vediamo. Avranno 30 giorni per lasciare le case dove vivono o si provvederà allo sgombero coatto. Blitz questa mattina a Rione Amicizia, nel quartiere San Carlo all'Arena, Napoli, dove le forze dell'ordine hanno notificato un decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP del Tribunale di Napoli a 16 indagati per invasione di terreni ed edifici. 17 appartamenti popolari dell'Acer all'interno dell'isolato 12 risultano occupati abusivamente da persone ritenute affiliate al clan Contini Bosti, legato al cartello camorristico dell'Alleanza di Secondigliano. L'attività investigativa Interforze, svolta dal nucleo investigativo del Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri di Napoli, dalla squadra mobile, dalla Guardia di Finanza e dalla Polizia Locale di Napoli, attraverso accertamenti documentali e attività di sopralluogo, avrebbe permesso di raccogliere numerosi elementi a carico dei 16 indagati. Il complesso residenziale in questione è costituito da 566 appartamenti divisi in 21 isolati, dei quali 12 saranno oggetto degli interventi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per essere riqualificati. Hanno aggredito alcuni infermieri del pronto soccorso dell'ospedale pediatrico Santo Bono, probabilmente perché stanche di attendere il loro turno. Una donna di 34 anni e la figlia di 14 sono state denunciate dai carabinieri di Napoli, intervenuti sul posto per lesioni, violenza a pubblico ufficiale, interruzione di pubblico servizio. La donna era in attesa di sottoporre l'altra figlia di 6 anni a una visita medica. Due infermieri hanno riportato lesioni guaribili in una settimana. Sono in corso approfondimenti sul ruolo dell'aggressione di altre persone. La Sardegna traccia la strada per tornare al governo. Così il sindaco di Napoli commenta con entusiasmo la vittoria della Todde con candidati credibili c'è unità del fronte progressista. Sentiamo. Una grande presidente per la Sardegna. Tanti progetti importanti sviluppati insieme a partire dal salvataggio della ex Whirlpool con l'unità e la concretezza si costruisce l'alternativa. Così sul suo profilo X il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi si complimenta con Alessandra Todde, neopresidente della regione Sardegna. L'ex sottosegretario esponente del fronte progressista 5 Stelle PD ha vinto di misura contro il candidato del centrodestra e il sindaco Manfredi che è pioniere dell'alleanza giallorossa a Napoli esprime soddisfazione per questo risultato. Sicuramente è un messaggio dal punto di vista politico molto importante. Chiaramente si tratta di un'elezione locale anche se di una regione molto importante però è la testimonianza di quello in cui noi abbiamo sempre creduto, anche l'esperienza di Napoli lo dimostra. Avere un candidato che sia credibile e riconosciuto al territorio come il caso di Alessandra Todde con cui ho lavorato al governo perché eravamo al governo insieme, una unità del fronte progressista che riesce a mettere insieme, sensibilità che sono diverse ma che però si uniscono negli stessi valori e negli stessi progetti è la strada maestra per essere vincenti. La Sardegna ci testimonia ulteriormente quello che dobbiamo fare come l'abbiamo fatto a Napoli, è stato fatto in Sardegna, dobbiamo continuare su questa strada fino a tornare al governo nazionale. Morte sul lavoro alla Stellantis in procura convocati colleghi e responsabili della fabbrica di Pratolaserra, intanto dai sindacati l'appello al controllo sui subappalti, sentiamo. Dopo l'ultimo saluto nella sua cerra si continuò a indagare sulla morte di Domenico Fatigati deceduto alla Stellantis mentre era al lavoro. I carabinieri del nucleo operativo sono pronti a notificare le prime convocazioni in caserma, saranno ascoltati i colleghi del 51enne morto giovedì scorso nell'area smistamento dei basamenti motore. Gli inquirenti vogliono ricostruire le modalità lavorative della ditta esterna per la quale lavorava Mimmo. Le convocazioni delle prime persone informate sui fatti mirano a far emergere se venivano rispettati gli accordi contrattuali all'interno dello stabilimento di Pratolaserra, dopo le denunce lanciate anche via social dai colleghi di Domenico Fatigati nonché dai sindacati sotto accusa, subappalti e turni di lavoro. Intanto questa mattina in provincia nel corso del Consiglio provinciale è stato osservato un minuto di silenzio e inoltre il Presidente ha accolto la richiesta degli stessi sindacati di sensibilizzazione sui temi di legalità e appalti. Quella della sicurezza del lavoro è un tema sempre di stretta attualità, oggi più che mai alla luce di infortuni mortali che ci sono stati nella nostra provincia ed è chiaro che occorre fare un corpo unico rispetto a questo tema, delicatissimo, che riguarda la nostra comunità ma tante altre comunità. Siamo ovviamente accanto ai lavoratori, al mondo del lavoro, dei sindacati ma anche dei datoriali, degli imprenditori perché è un tema evidentemente che riguarda tutti. Intanto ieri a Napoli i sindacati hanno avuto un incontro con Stellantis, le parti hanno condiviso l'opportunità di intraprendere azioni comuni per sensibilizzare le ditte appaltatrici al massimo rispetto e a rigore nella concreta applicazione delle norme di sicurezza sul lavoro. Sarà l'autopsia a chiarire le cause della morte del 14enne di Sarno deceduto all'Umberto I. Dopo due ricoveri la famiglia Asporto denuncia. Bisognerà attendere i risultati dell'autopsia per chiarire le cause della morte di Michele annunziata. Lo studente 14enne di Sarno deceduto lunedì nell'ospedale di Nocera Inferiore. Il giovane era stato trasferito all'Umberto I dal nosocomio di Sarno dove la settimana precedente era già stato per un consulto. A quanto pare il 14enne lamentava una forte emicrani e conati di vomito. Domenica sera la situazione si è complicata rendendo necessario il trasferimento. A Nocera Inferiore il giovane avrebbe dovuto effettuare un'attacca ma improvvisamente il suo cuore ha smesso di battere. La famiglia è incredula Asporto denuncia e chiede di vederci chiaro. I carabinieri hanno sequestrato le cartelle cliniche nei due ospedali e nelle prossime ore la procura di Nocera Inferiore conferirà l'incarico per l'autopsia che servirà ad appurare le cause del decesso. La tragedia avvenuta nell'agro intanto ha riacceso il dibattito sindacale sulla necessità di riorganizzare la sanità sul territorio e negli ospedali salernitani. Questo nuovo evento mostra tutta la necessità di riorganizzare tutto il settore dell'emergenza perché purtroppo degli errori capitano perché vi è un sovraffollamento nelle strutture deputate all'emergenza dove vi ricordo che circa l'80% sono codici bianchi e verdi che richiederebbero di essere trattati a casa o comunque dalla medicina territoriale. Si accende il dibattito a Benevento sul tema dell'autonomia differenziata, un grave rischio per le aree interne secondo l'esponente del PD Vito Fusco. Sentiamo. L'autonomia differenziata tema caldo nel Sannio sulla riforma Calderoli e botta in risposta tra gli opposti schieramenti a Benevento che si sono confrontati sul tema. È un rischio per tutto il paese, per il nord, per il sud, a maggior ragione per le aree interne che sono delle aree fragili. Ha paura dell'autonomia differenziata? Chi non è capace di svolgere il compito o meglio di raggiungere quegli obiettivi che in campagna elettorale pure sbandiera? Occasione un convegno promosso dal Centro Studi del Sannio che ha offerto l'opportunità di fare il punto sul disegno di legge e rilanciare le ragioni dei partiti. Mette in evidenza il rischio di frammentazione e la crescita dei divari Fusco che incalza come associazione dei sindaci del sud, respingiamo fermamente questa riforma. Il vero obiettivo di Calderoli e compagni è quello del residuo fiscale, cioè della compartecipazione del gettito delle regioni, che ricordiamo non è delle regioni ma il gettito fiscale e delle persone e le politiche redistributive si attuano tra persone. Stiamo attuando quanto già votato nel 2001, si dovrebbe applaudire a questo passo avanti e invece c'è un clima di totale caos, replica il segretario della Lega Mignone. Sento addirittura parlare di guerra civile, di secessione. Sono argomenti che soprattutto in un momento storico come questo impensieriscono non poco il cittadino, noi dobbiamo dare delle sicurezze. Questa è la base per poter dare ad ogni regione la possibilità di misurarsi soprattutto con l'interesse del proprio territorio. Non c'è nessun pericolo per una divisione tra i cittadini e i territori. Gli italiani sono tutti uguali e saranno ancora più uguali grazie all'autonomia differenziata. Sarà il capo dello Stato a inaugurare i nuovi spazi del Palazzo Reale della Regia di Caserta. Giovedì Mattarella chiuderà le celebrazioni per i 250 anni della morte di Van Vitelli. Caserta si prepara all'arrivo del Presidente della Repubblica. Giovedì Sergio Mattarella arriverà in treno per rendere omaggio al genio di Van Vitelli con una doppia visita prima alla Regia dove presenzierà l'inaugurazione dell'ala ovest del Palazzo Reale e poi alla chiesa di San Francesco di Paola a Casa Giove che conserva le spoglie dell'architetto. Ad accogliere l'inquilino del Quirinale, il Presidente della provincia, il Prefetto, il Governatore De Luca, il Vescovo Lanese e il Ministro San Giuliano con il Sindaco Carlo Marino. Per noi è una giornata importante, dedica una giornata intera alla città, alla grande bellezza della Regia, a una nuova ala e anche una nuova mossa che apre all'interno della Regia, alla visita alle ribiquie di Luigi Van Vitelli dove fra pochi giorni si chiude i 250 anni, gli eventi dei 250 anni dalla sua morte e soprattutto è l'attenzione, la sensibilità una città del sud, una città media del sud che attraverso le sue bellezze e attraverso anche la sua capacità di fare sistema prova a dare un'occasione alle ragazze e ai ragazzi del sud. Questo è lo spirito con cui accogliamo il Presidente, lo accoglieremo con i nostri giovani, con le nostre ragazze, i nostri ragazzi ma soprattutto con le nostre bellezze. A fare da guida la direttrice della Regia di Caserta Tiziana Maffei che mostrerà in tutto il suo splendore la Cappella Palatina dove si svolgerà l'inaugurazione dei nuovi spazi. La visita di Mattarella chiude di fatto le celebrazioni per i 250 anni della scomparsa di Van Vitelli. Scomparso da Torino, otto mesi fa, un 58enne aniello di marino originario di Castelnuovo, Cilento. La famiglia da Valloscalo rivolge un appello accurato tramite il parroco della comunità. Sentiamo. Resta ancora un mistero ad otto mesi di distanza la scomparsa di Aniello De Marino, 58enne originario di Castelnuovo, Cilento che ha fatto perdere le sue tracce l'8 luglio da Torino dove risiedeva con moglie e figli e lavorava come agente di polizia penitenziaria nel carcere delle vallette. Era uscito di casa in sella la sua mountain bike nera, ritrovata poi in campagna tra i fiumi Dora Ripari e Po. L'ultimo segnale telefonico lo localizza nei pressi del parco della colletta a Torino. Della scomparsa del 58enne si è occupata anche la trasmissione Rai Chi l'ha visto. Da Valloscalo, dove vivono i familiari, parte un accorato appello per ritrovarlo da parte del parroco Don Salvatore Monterosso. Io credo che molto stanno facendo anche i familiari e perciò si sono rivolti a me sabato il fratello chiedendomi di postare su Facebook questa notizia. L'ho fatto volentieri ma è un appello che si sta facendo giusto perché se fosse a conoscenza qualcuno anche del territorio che vive a Torino, perché sono molte persone di Valloscalo che vivono a Torino, qualsiasi persona possa dare un indizio, che si faccia un po' chiarezza nella speranza che si dia almeno una risposta alla famiglia. Soprattutto perché chi vive certe situazioni poi giorno per giorno aumenta la paura, aumentano i dubbi, le incertezze. Gli agricoltori arrivano in provincia ad Avellino nel corso del Consiglio. È stata accolta la loro richiesta. Sentiamo. Gli agricoltori sono stati accolti in provincia questa mattina nel corso del Consiglio provinciale dimostrando che la mobilitazione non si è affievolita. È chiaro che la protesta agricola continua senza sosta come evidenziato dalle manifestazioni che stanno avendo a livello nazionale. Continueremo a perseguire il nostro obiettivo, dicono. Gli agricoltori non si sono fermati, la protesta continua, come abbiamo potuto vedere in ambito nazionale, continuano queste proteste. Andiamo avanti fino a quando non avremo delle risposte dall'attuale governo per ripristinare questa nuova PAC che sostanzialmente sta creando soltanto danni al reparto agricolo. Il consigliere provinciale, Franco di Cecilia, fa eco agli agricoltori e si dice da sempre al loro fianco. Noi fiancheggiamo questa legittima contestazione perché la condividiamo nei contenuti e nei toni civili e pacati che ha assunto hanno dimostrato anche nello stile di protestare una civiltà, quella civiltà contadina che ci caratterizza. Pertanto la provincia credo abbia fatto molto bene ad accogliere queste istanze e a dare un'eco adeguata affinché questa istanza possa arrivare il più lontano possibile a Roma, a Bruxelles. È l'istanza dei nostri agricoltori che lamentano una disattenzione verso il settore. Ci sono dei punti programmatici che noi oggi toccheremo in consiglio cercando anche di far da supporto a questa legittima protesta che ha avuto già una ripercussione. Ci sono ben 36 comuni che hanno approvato delle deliberi in tal senso. La protesta degli agricoltori prosegue anche nel Sannio e poi la spaccatura a livello nazionale in provincia di Benevento. Gli agricoltori sono al lavoro per stabilire le prossime azioni. C'è fermento al presidio Sannita della protesta degli agricoltori. Non è escluso che nelle prossime ore vengano intraprese nuove iniziative per far arrivare la loro voce a governo ed Unione Europea. Nelle ultime ore hanno incontrato gli agricoltori promotori della protesta in Irpinia. C'è da decidere le sorti dei vari comitati nati sotto il nome di riscatto agricolo, movimento che ora a livello nazionale non esiste più. E c'è la volontà di creare un nuovo movimento, un'associazione per proseguire nella protesta, che ha visto gli agricoltori Sanniti protagonisti da settimane, visto il gran numero di adesioni alle manifestazioni organizzate in provincia di Benevento. Ora evidentemente serve un'identità, magari per essere invitati ai tavoli istituzionali. Intanto dal consigliere regionale Erasmo Mortaruolo la solidarietà verso i manifestanti è un immito. Solidarietà assolutamente doverosa da parte di chi produce e di chi si sta producendo, voglio dire, soprattutto nel settore agricolo. Come già abbiamo avuto modo di affrontare, magari in precedenza, è un problema enorme e deve essere affrontato sotto diversi punti di vista. Da un lato sicuramente l'Unione Europea che ha norme molto molto restrittive nei confronti del comparto, dall'altro lato però bisognerebbe prestare maggiore attenzione a tutta la filiera, alla grande distribuzione, a quegli eventi che disturbano il mercato e lo disturbano a sfavore soltanto di chi lo produce. In anteprima ieri sera a Napoli in tutte le sale dal 29 febbraio Caracas, l'attesissimo film che vede Marco D'Amore nel duplice ruolo di attore e regista a dirigere Tony Servillo. Vediamo. Nonostante tutto quello che si dice del posto da cui veniamo, voi siete per me moltiplicatori di felicità. Quindi vi volevo ringraziare per essere qui perché anche grazie a voi io nutro la mia fantasia e la mia creatività e cerco anche io nel mio piccolo di raccontare questa città con gratitudine e amore. Grazie a tutti. Anteprima speciale per Caracas, parata di stelle per il nuovo e attesissimo film di Marco D'Amore presentato a Napoli che ha ospitato il regista e il cast del lavoro in sala dal 29 febbraio. Un film che vede Marco D'Amore nel duplice ruolo di attore e regista dirigere Tony Servillo nella trasposizione cinematografica di Napoli Ferrovia e il romanzo di Armando Rea. Caracas racconta la storia di Giordano Fonte, Tony Servillo, scrittore partenopeo che si trova a vagare per le strade di una Napoli a tratti spaventosa e imponente ma anche intrigante e affascinante. Accanto a lui c'è Caracas, un uomo che sta intraprendendo un percorso di conversione all'Islam. Giordano esprime il sentimento dell'amore impossibile tra Caracas e Giasmina mentre si addentra in una metropoli dove ognuno spera di trovare la propria salvezza. Grazie per la vostra attenzione. Grazie per la visione. Grazie per la visione.